L'individuo gode di una libertà relativa. Cerchio Firenze 77, Scuola del Cerchio Firenze 77, Essere e divenire, a cura di Vubi, Dali. Vi vedo figli molto confusi, ma non dovete preoccuparvi, come già ebbi a dirvi. Quindi, prendete l'insegnamento con semplicità. In fondo i principi, voi li avete già appresi, è vero? Voi avete compreso che queste varianti esistono per valide ragioni, che hanno lo scopo di dare all'individuo libertà, che in fondo questa libertà è molto tacciata, ma in realtà è molto meno di quanto l'individuo crede di avere. Della libertà di cui gode l'individuo, noi possiamo fare una specie di gradazione. Noi, esaminando la realtà delle cose, vi abbiamo spiegato che l'individuo gode di una libertà relativa. Questa libertà relativa si divide in pura e spuria. E' vero? Cerco di rinfrescarvi le idee, perché questo è molto importante per la comprensione delle varianti. Quella pura è quel genere di libertà minima, se vogliamo, che l'individuo ha di agire senza essere influenzato da fattori esterni ambientali, dovuti ai suoi veicoli, per cui la libertà pura può essere anche di creature non molto evolute. Ma è anche vero che la libertà pura è più facilmente riscontrabile in creature equilibrate e quindi evolute, cioè creature che possono sottrarsi all'influenza dell'ambiente e dei propri veicoli. E vi è poi un tipo di libertà, la libertà spuria, che è quella che noi abbiamo definito la libertà di agire dell'individuo, ancorché questo stimolo ad agire provenga dai suoi veicoli o da certe sue necessità, insomma, da certe influenze dell'ambiente, di se stesso. Questa è una specie di gradazione che noi abbiamo fatto della libertà relativa dell'individuo. Senza parlare della libertà assoluta, che è un tipo di libertà del tutto particolare, cioè libertà raggiunta, meta raggiunta, coscienza raggiunta, che è libertà dell'uomo libero, dell'uomo evoluto. Più giusto è dire dell'individuo evoluto, perché non si parla più nemmeno di uomo. Sì. 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 Sì.